Come è la casa editrice della custodia francescana di Terra Santa? Come è la casa editrice della custodia francescana di Terra Santa? Con questa particolarità, cioè quella dell'attenzione al Medio Oriente, ricordiamoci che appunto la Terra Santa è stata la prima provincia francescana e quindi non in qualche modo è assolutamente legato al DNA dei francescani la presenza in Terra Santa, quindi non potevamo non essere più al Festival Francescano. Siete qui con uno stand, presentate dei libri in particolare in questa edizione del Festival? Sì, siamo qui con uno stand che presenta varie cose ovviamente legate come dicevo prima al Medio Oriente ma anche all'attualità. Ma siccome il tema è quello della gioia, quest'anno uscirà il secondo volume di un personaggio divertente, molto particolare che è un topolino amico di Papa Francesco, topo Orghe. Presenteremo domenica sia in mattinata che nel pomeriggio questo libro illustrato per bambini di cui è autore padre Stefano Gorla che è direttore del giornalino, la storica rivista appunto della San Paolo per i ragazzi. Quindi è un'opera a cui noi teniamo molto, un'opera che ci aiuta ad avvicinarsi al Natale con spirito francescano e in questa nuova puntata che è attesa per Natale il topolino viaggerà proprio con il Papa nella borsa nera in Terra Santa e quindi ci racconterà i luoghi dove ha vissuto Gesù e ci racconterà il mistero di Gerusalemme, quindi la storia della morte ma della risurrezione di Gesù. Senti, voi siete presenti al Festival Francescano, penso sin dalla prima edizione o comunque da vari anni, che cosa rappresenta per voi l'occasione del Festival Francescano? Sì, siamo presenti dall'inizio, dalle prime edizioni, per noi rappresenta intanto il sentirci a casa, cioè il sentirci dentro il movimento francescano non solamente dell'Emilia Romagna ma di tutta l'Italia, quindi partecipare a quello che è la missione delle varie famiglie francescane. Ciascuno secondo appunto la propria specificità, la nostra è quella dell'editoria e della comunicazione ed è l'occasione per incontrare tante persone e per provare di più ancora, per toccare con mano ancora di più la sete che la gente ha di conoscere la Terra Santa, di visitare i luoghi santi e di incontrare appunto quello che è il messaggio della Terra Santa che poi è il messaggio della salvezza. Grazie. 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 Grazie.